Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora nuova puntata della serie scopro nuovi youtuber e reagisco davanti alla videocamera tantissimi me li avete consigliati voi quindi non vedo l'ora di iniziare perché questa è una delle tipologie che io preferisco adoro filmare questi video, mi diverto troppo e quindi questo mi sta che è il terzo episodio che facciamo di questa tipologia correggetemi se sbaglio e voi vi ricordate sempre tutto molto meglio di me quindi sono pronta armata di computer rigorosamente pink e direi di iniziare appunto vi ho chiesto su instagram sulle mie stories se non mi seguite ancora su instagram basta cercare kissandmakeup01 oppure il mio nome e cognome così come sta scritto qua su youtube oppure c'è anche il link qua sotto così prossima volta potete consigliarvi anche voi youtuber da scoprire in diretta o più o meno in diretta su youtube quindi direi di iniziare allora ne ho salvati diversi che sembrano sembrano i più gettonati allora primo youtuber che mi avete consigliato e questo era veramente super 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 gettonato quindi non potevo assolutamente esimermi dall'inserirlo in questo video è nicolò balini o human safari io ho sentito molto molto parlare di questo youtuber ma non ho mai 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 visto i suoi video e quindi ah ok ha due canali uno è human safari l'altro è nicolò balini qual è che devo andare a vedere non lo so è la stessa persona? si 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 è la stessa persona andiamo a vedere quello con più iscrizioni human safari allora ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video se cado finisce qua wow un problemino il nostro scudo è 14 centimetri più lungo rispetto alle misure consentite quindi potrebbero non farci salire soprattutto se la tipa capisce l'italiano perché l'ho appena detto mi sembra molto simpatico e da quanto capisco fa video di travel quindi video di viaggi eccetera eccetera e sono anche molto molto ben fatti posti meravigliosi lui molto simpatico vorrei andare a vedere il video con più visualizzazioni cosa che faccio molto spesso in questa tipologia di video perché di solito sono i video più così più accattivanti allora most popular vediamo allora on off volume 2 human safari tre minuti che cos'è una specie di intro bellissimo no vabbè vabbè ragazzi cioè io questo canale non lo conoscevo mea culpa perché è un canale enorme con visualizzazioni altissime e appunto con video ben fatti e ho registrato una voce nella casa infestata interessante il mio primo tatuaggio a Bangkok abbiamo trovato un tesoro l'aurora boreale no vabbè andiamo a vedere l'aurora boreale se avete visto qualche mio video vecchio penso di averne parlato ma uno dei miei sogni no che cosa sto facendo scusate uno dei miei sogni più grandi che voglio assolutamente realizzare sapete quelle cose che dite questa cosa la voglio fare prima di morire ecco io voglio vedere l'aurora boreale voglio assolutamente assolutamente vederla in qualche modo ce la farò ce la farò wow mio dio è bellissima ma anche le stelle si vedono no vabbè io cioè sono rimasta incantata veramente a parte che i video dell'aurora boreale le foto dell'aurora boreale me li vado sempre a vedere perché appunto è una cosa che voglio assolutamente vedere prima una volta nella vita devo assolutamente vederla possibilmente più volte però e quindi però veramente super super questo video il suo canale in generale mi piace molto molto carino simpatico lui non so se è stato il primo canale a fare questo genere di video o comunque insomma però ha molto molto successo e i video sono sono mi piacciono tanto mi piace questo stile così e quindi e quindi vi ringrazio per avermi fatto scoprire il suo canale che appunto non conoscevo ma avevo sentito parlare di human safari un sacco però appunto non mi ero mai soffermata sul suo canale magari l'ho anche incrociato qualche evento se è così Nicolò perdonami ma io cioè veramente sono poco social nonostante io sia cioè non so se ha un senso cioè ovviamente sono un influencer però guardo poco cioè io posto ok ma guardo poco e quindi scusami se non ti conoscevo perché sei veramente veramente top allora altro che mi avete consigliato io ho un po' paura perché questa ragazza per dire mi ha scritto super trash ma simpatico un altro così non lo trovi ok allora io ho un po' spaventata ma proseguiamo e andiamo a vedere christian oliveras allora christian oliveras qui mi esce christian oliveras shakira a questo punto andrei a vedere questo christian oliveras shakira oddio che cos'è no vabbè no però se mi metti la musica non la posso mettere oddio no vabbè non ci posso credere ragazzi la musica io la devo togliere perché altrimenti questo video mi viene il management di shakira mi mi sega le gambe della serie no vabbè io non ci posso credere vi prego ma cioè lui è serio o tipo no vabbè ok no vabbè fantastico ah ok a 314.000 iscritti ragazzi io lo prendevo in giro invece il ragazzo mica male che cosa vogliamo andare a vedere guardiamo ancora most popular che mi sembra la cosa più interessante perché il resto secondo me sono vlog non ho ben capito oh bene ok questo delle careca che il video vi ho visto andiamo a vedere questo che cosa vi devo dire di monetized oh mio dio però le facce che fa sono troppo simpatiche ah ok gli è arrivato un pacchetto da un follower e lui è molto contento di aprirlo gli hanno mandato un lecca lecca a forma di pene bene bene direi a parte che ha gli spiriti in casa che gli lanciano le robe e beh se i follower gli mandano questo genere di regalo insomma mi farei due domande no sto scherzando in realtà è simpatico interessante questo tutorial ragazzi io ho fatto molti tutorial su come fare uno chignon ma questo metodo mi mancava dovrei probabilmente rifilmare questo video con questa nuova tecnica quanto sembra ok beh vabbè vabbè si è capito abbiamo capito il senso di questo canale è molto simpatico lui carino il canale non è esattamente il mio genere non è esattamente il mio stile un altro consiglio è di andare a vedere Veronica Wong W-A-N-G vediamo un po' Veronica Wong e ok 1.131.000 iscritti e sembra da quanto vedo qui sembra faccia solo mukbang praticamente food challenges eccetera allora andiamo a vedere anche qua i video più popolari allora extreme spicy noodle challenge ok challenge noodle estremamente piccanti oh mio dio ma se li mangia tutti no vabbè oh mio dio no io non ci posso credere cioè e sta anche cronometrando non ci posso credere no vabbè questa voglio vederla ragazzi in real life proprio cioè no io non ci posso credere ma li finisce veramente tutti li finisce tutti si sta sentendo male non fatelo a casa vi prego ma è matta cioè oh santo cielo mi sta prendendo male per lei ve lo giuro non ci posso credere io non ci posso credere che lei abbia finito tutto sto padellone pentolone di noodle piccanti io sono cioè veramente in meno di 4 minuti io sono sconcertata voglio vederne un altro voglio assolutamente vederne un altro ma come fa a mangiarsi tutta sta roba e ad essere così magra me lo spiegate per cortesia cioè puoi spiegarmelo grazie secondo me fa così non mangia per tre giorni poi filma un video non mangia per tre giorni poi filma un video una roba del gel così deve essere non ci posso credere anche qui è un po' provata è un po' provata la ragazza non come nell'altro video però devo dire e li ha finiti e li ha finiti questa è una ragazzi ognuno ha i suoi talenti ognuno ha i suoi sport e questo è il suo talento cioè lei riesce a mangiarsi 10 kg di noodles e essere così magrissima cioè io non lo so beata lei beata lei però veramente mi ha fatto un po' senso tutto ciò perché non avevo mai visto una roba del genere mi avete consigliato i just for love che fanno candied mute allora vediamo un po' vediamo un po' just for love allora candied mute non so che cosa aspettarmi sinceramente allora video andiamo a vedere quelli con più visualizzazioni che sono sempre quelli più interessanti 110 milioni wow cioè wow ok andiamo a vedere questo ladro di mutandine si chiama ah ok praticamente statizia chiede a qualcuno di dare un'occhiata allo stand mentre lei è via e poi arriva questa ragazza che credo ruberà le mutande ok poi arriva la security ah ah oh oh beccata che faccio le signore oddio no pure quelle no oddio le signore sconcertate no vabbè fantastico oh ah 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 ancora non ci credo e il santo cielo ma dove le aveva messe oh oh no no la signora tutta rossa oh vabbè fantastici eh no 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 sguardo di disappunto sguardo oh questa sconcertata ah 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 lei non ha visto niente giustamente oh che carine ah e poi glielo dice che è una candid camera no vabbè oh vabbè che carine è troppo forte troppo forte mi è piaciuto tanto queste signore troppo carine troppo carine andiamo a vederne un'altra mi sono piaciuti questi sexy bikini nan best sexy pranks andiamo a vedere best sexy pranks visto che è il secondo video più visto ah tipico le ragazze che lavano la macchina arriva un signore e questi guardano ah no ma come è la sua macchina ah ho capito loro sono lì che aspettano e queste lavano le auto degli altri no lui arriva la signora no con i bigodini in testa non ci posso credere non ci posso credere ah 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 no ma sguardo di incredulità misto a a tipo no ah 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 il tipo con la bmw tipo si sta godendo la vita al top e a lui è capitata lei no no non ci credo ah 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 fantastico no vabbè bravissimi questi mi piacciono veramente veramente tanto just just for laughs gags ragazzi andate ad iscrivervi a questo canale perché sono secondo me sono beh vabbè secondo me hanno 8 milioni e 571 mila iscritti quindi non solo secondo me sono veramente fantastici e anche loro non li conoscevo quindi vi ringrazio perché sono super 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 mi sono piaciuti un sacco poi altro canale che mi avete consigliato in tantissimi simissimi forse è il più gettonato assieme a human safari è issima 91 allora io e mi avete scritto in tantissimi che lui mi segue e che ha fatto un video su di me non tanto tempo fa e e che era un bel video quindi vi ringrazio allora io ho visto questo youtuber perché perché so che fa video di gossip di youtube non so se fa anche altro però so per certo che fa video sul gossip youtubiano e e non cioè ci sono anch'io quindi spesso mi è capitato che guardando i miei video vedo nei consigliati i suoi video perché magari ci sono io come nell'anteprima ecco quindi ho visto però 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 nonostante allora voi mi avete detto che lui mi segue e che è molto simpatico e che se parla di me o di altri youtuber non lo fa mai male in modo offensivo eccetera eccetera quindi insomma tanto di cappello e lo ringrazio innanzitutto perché mi avete detto che insomma mi segue e quindi io ringrazio tutti i miei follower indipendentemente ringrazio tutti i miei follower perché io ai miei follower devo tantissimo quindi lo ringrazio e non però devo dire la verità non ho mai visto i video suoi perché io in linea generale non guardo i video di gossip e ma non perché insomma lui mi avete detto che in realtà è molto simpatico e non parla mai male eccetera eccetera però io in linea generale un po' come un meccanismo di autodifesa quando vedo me stessa nell'anteprima e non è un video che ho fatto io non li apro perché molto spesso mi è capitato di rimanerci male in passato parecchi anni fa e dopo di che mi sono detta nicole tu adesso basta avete presente come quando te lo dice un'amica io me lo sono detta da sola nicole adesso basta tu i video di gossip su di te non te li vedi più perché ci rimani male dacci un taglio sei masochista no allora basta e quindi da quel momento io non ho più aperto un video in cui c'ero io nell'anteprima se non forse una volta in cui ho fatto un video e stavo e guardavo i video degli haters che facevano video su di me però a parte quella volta non li ho mai visti e comunque lui non credo proprio sia uno uno hater veramente io so che lui non è un hater e quindi anzi appunto mi è mi ha fatto molto piacere che in molti mi avete scritto che mi segue e che parla sempre bene di me o comunque so che appunto gli piacciono i miei video e gli so simpatica me l'avete scritto che l'ha detto e quindi lo ringrazio ti ringrazio e allora andando sul suo canale effettivamente vedo che lui fa beh a parte che ha anche insomma buone visualizzazioni devo dire quindi tanto di cappello bravo vedo che fa non fa solo gossip di youtube in realtà pensavo facesse solo gossip di youtube invece no fa anche ah tipo ho fatto il video sulle assumptions che ho fatto anch'io abbiamo fatto in tantissimi poi ha fatto i video giudicando gli outfit degli oscar poi vabbè qualcosa su the voice se non sbaglio la scelta di lorenzo sarà tipo uomini e donne credo una roba del genere poi fa story time e quindi fa un po' di un po' di tutto insomma devo dire quindi un canale molto vario e ripeto con buonissime visualizzazioni e vedo che anche con con me nell'anteprima le visualizzazioni non sono niente male caroissima 91 e vedo questo video tubissima 89 polemiche sul nuovo sul nuovo fidanzato di Nicole chi è? vorresti saperlo ma non lo sai parliamone insieme no vabbè ha messo pure l'emoji del tipo dell'ispettore gadget tipo dell'investigatore con la lente è fantastico fantastico ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivando nuovissima puntata di tubissima la vostra brinca di gossip spicciolo youtubiano mi piace sta cosa mi piace solo qualche giorno no vabbè lui mi sembra simpatico ripeto non so che cosa aspettarmi però mi sembra molto simpatico lui vediamo quando vedo video su di me ok per me è quasi surreale perché io non mi reputo una persona famosa e quindi vedere ragazzi ragazze che fanno video su di me è veramente per me è strano cioè continuo ad essere strano io non mi ci abituerò mai però mi fa piacere mi fa piacere dato che nell'ultimo tubissimo 88 vi è piaciuto molto la mia presa di posizione quindi continuerò questo filone ovviamente poi vorrò sapere anche la vostra che mi dovete dire tutto quello che pensate qua sotto tramite commento ma andiamo per gradi perfetto mi è molto simpatico lui a pelle pubblica sul suo instagram due foto un po' strane un po' nuove in cui la ritraggono in una mano nella mano con un uomo e l'un'altra con un uomo in un abbraccio amorevole sempre con lo stesso uomo mi immagino si è sempre lo stesso questo scoop del oceano ovvio che è sempre lo stesso voglio dire migliaia e migliaia di commenti chi è contenta per lei chi li fa le bocca al lupo chi gli dice ti meriti finalmente la felicità dopo quello che hai passato e ovviamente anche migliaia e migliaia di like ma al tempo stesso ci sono stati anche molte polemiche molte domande e molte curiosità dove ho i terzi ne direte voi me ne sono appena reso conto sempre dire brava bella bellissima e tutto quanto però le ho fede personali come dice lei che gli hanno dato della cagna gli hanno detto ma com'è possibile quello era solo un esempio veramente ne ho sentite di tutti i colori una tristezza incredibile l'amore non sarà mai felice chissà se questo nuovo fidanzato ha i soldi dell'altro e si giustifica un po' come per dire una parte di soldi a me non me ne frega nulla perché io le cose che voglio le cose che faccio le faccio con i miei soldi quindi grazie ok questo permette un riassunto un po' dei miei video grazie ti ringrazio hanno ragione invece i tuoi follower quando dicono molto preoccupati secondo me che ti voglio siccome le tue precedenti storie le hai spiantellate praticamente ovunque nei sommo io proverei con questo nuovo fidanzato almeno all'inizio a non mostrarlo proprio sui profili sulle foto su youtube e tutto quanto perché così non si sa mai spalle corte magari non lo spiantellerei nel caso in cui finisse anche questo un'altra delusione un'altra fine di una storia d'amore quindi ci starei ben attenta e su questo io penso che abbiano ragione le follower che dicono beh allora non posso vedermi tutti i 16 minuti di video adesso ragazzi altrimenti questo video veramente non finisce più lì comunque confermo quello che mi sembrava all'inizio è sicuramente una persona che è uno youtuber ok non è un hater che fa video è uno youtuber fa video carini interessanti vari varie tematiche è molto simpatico lui ed è anche molto voglio dire giusto nei video che fa perché mi sembra molto giusto cioè lui riprende quello che ho detto io se vogliamo dire un video di gossip però serio tra virgolette se un video di gossip può essere serio però lui riprende racconta insomma spiega un po' tutta la situazione perché ha parlato delle foto ha parlato del video mi fa ridere sta cosa e poi dice insomma anche quali sono state un po' le critiche tra virgolette insomma perché ovviamente delle offese ha detto delle altre cose giuste però poi dice sì ma c'è chi è preoccupato dice magari all'inizio non farlo vedere eccetera eccetera perché è meglio così quindi mi piace questa cosa io ringrazio anche lui per i consigli che mi da ovviamente non essendo nella mia situazione non si può sapere non non conosce la la mia storia d'amore non conosce il mio fidanzato non sa tutto quanto così come non sa nessuno in questo momento magari appunto un domani io vi racconterò tutto eccetera eccetera per adesso la mia cioè i miei sentimenti per questo ragazzo rimangono miei ne parlerò magari ti contatterò Isima che adesso non so come si chiama lui scusami scusami però ti contatterò e magari ti darò la scoop se vuoi o magari facciamo un video assieme e però però sì insomma appunto io ringrazio tutti quelli che mi danno i consigli però come avevo già detto continuerò a condividere quello che mi sento di condividere quello che non mi sento di condividere non mi sento di condividere non lo farò io vado molto d'impulso e seguo sempre il cuore quello che penso sento sia giusto in quel momento io lo faccio se significa condividere qualcosa lo faccio se significa non condividere qualcosa non lo faccio se significa postare una foto mano nella mano con il mio ragazzo la posto su Instagram indipendentemente da quello che scatena perché è il mio profilo e quindi voglio condividere quello che voglio è il mio profilo con il mio nome quindi è così come tutte le ragazze normali di questo mondo però ripeto a me lui devo dire piace sta simpatico non ho visto gli altri video magari sono pessimi e mi dice di tutto e di più spero di no però mi è simpatico ecco e ha sicuramente un canale serio ecco un bel canale di gossip dovrebbero essere tutti i canali di gossip così e poi ragazzi io voglio assolutamente concludere questo video con il maestro ma non so perché ho fatto così non so maestro io mi inchino a lei io seguo già questo youtuber devo dire la verità quindi non dovrei teoricamente inserirlo perché questi sono video in cui io scopro youtuber che non conosco ma lui ragazzi io devo assolutamente presentarvelo farvelo vedere farvelo scoprire l'ho menzionato tante volte nei miei video ed è youtube anche io tra l'altro me l'avete consigliato anche voi quindi non sto barando propriamente o forse sì nida e diciamo così perdonatemi ma lui ragazzi è il maestro perché i suoi follower lo chiamano il maestro youtube anche io lui fa praticamente non solo ma fa quasi esclusivamente mukbang e fa dei mukbang incredibili cioè cioè un chilo di tiramisù più mezzo pollo ragazzi e se li mangia tutti in tipo tempo di un video cioè è una roba assurda è sempre pubblicità un'altra volta l'ho visto mangiarsi tipo 40 kinder fette al latte e poi un mezzo pollo di rinforzo perché no perché no prima le kinder fette al latte poi il pollo questo è youtube anche io ragazzi inchiniamoci di lui appunto di lui mi piace tantissimo il modo che ha di parlare che è una parlata estremamente come dire è molto forbita parla in modo molto gentile molto educato usa delle belle parole che si sentono poco e ha un vocabolario non indifferente e quindi io l'ammino molto per questo perché si vede che è una persona colta però se devo parlare di mukbang mi fa sempre molta impressione perché sembra gli stia per prendere tipo un colpo a volte perché lui mangia tantissimo ragazzi tantissimo cioè in questo video lui si mangia un chilo di tiramisù e io non sto scazzando e non vi faccio mitica l'acqua calabria logicamente non è tanto sano quello che fa ma insomma è una persona adulta presumo che sappia quello che fa e molti lo criticano per questo perché dicono guarda che ti ammalerai sarai male eccetera eccetera lui continua in perterrito e più forte che mai a mangiare più che mai e questa è la prima vaschetta di tiramisù e poi ce n'è una lui parla poco e mangia tanto nel video avrete notato seconda cos'è poi beve solo acqua allora di questi di questi due che comunque sono un chilo un chilo due vaschette piene di tiramisù ragazzi io mi sento in colpa se ne mangio un pezzo vi rendete conto sono circa 3000 calorie mio dio mio dio e poi il pollo non so perché ma lui ha tanto questa cosa del pollo di rinforzo a fine video e io lo adoro per questo è fantastico andatelo a vedere perché le cioè le robe che riesce a mangiarsi lui peraltro deve essere una persona molto gentile molto a modo io vorrei tanto conoscerlo vorrei fare un mukbang anche con youtube anche io è per questo che mi piace non solo appunto per i mukbang che fa che sono cioè da rimanere ogni volta non ci posso credere ogni volta che lui posta video io sono così non ci posso credere e ogni volta supera il limite capito però mi piace anche proprio come persona e quindi per esempio 2 kg di marmellata d'arancia più pollo rafforzante capito ciao cari amici followers benvenuti questo è fantastica ogni volta che lui apre un video ciao cari amici followers lo amo in questo nuovo episodio come al solito mi manca sempre qualcosa questa volta l'acqua l'acqua assolutamente questa pambellata alle arance per me è qualcosa di straordinario e lui si finisce i barattoli così ragazzi non sto scherzando ecco sta finendo il quarto li vedete sono li vuoti sta finendo il quarto barattolo di marmellata d'arancia io non so come sia umanamente possibile ragazzi io non lo so ma anche lui fa delle visualizzazioni altissime 4 vasetti di marmellata e il pollo rafforzante che non è mezzo pollo è un polletto rafforzante un polletto da gustare con della strepitosa senape pure la senape no vabbè ok io lo amo andate a vedere youtube anche io me l'avete consigliato io già lo conoscevo ed è fenomenale se vi devo dire la verità a volte con il mio ragazzo ce lo guardiamo ci facciamo delle super 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 risate comunque questo è tutto rispostiamo alla videocamera ragazzi spero di essere sempre a fuoco che c'è sempre questa incognita dei miei video uno nicole sarà a fuoco due nicole avrai rossetto sui denti c'è sempre sta roba nicole quante volte si toccherà i capelli in questo video questa è la terza specialmente ultimamente lo so lo so comunque questo è quanto ecco adesso ho scompigliato tutto questo è quanto comunque ragazzi mia family spero vi sia piaciuto questo video io mi diverto sempre tantissimo a filmarli e quindi continuate a darmi altri consigli su chi dovrei andare a scoprire nel prossimo video di questa tipologia datemi anche consigli sui video che volete vedere su questo canale perché io sono sempre all'ascolto vostro leggo sempre tutti i commenti e voglio sempre sapere che cosa volete vedere di più nel mio canale che cosa vi piace che cosa non mi piace insomma scrivetemi tutto nei commenti e niente vi mando un bacio grandissimo un abbraccio forte 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 perché vi voglio bene nella mia family grazie a chi continua a sostenermi a volermi bene a starmi vicino a mandarmi bei messaggi conta tutto non do niente per scontato e ve ne sono davvero davvero grata perché ne ho bisogno quindi un bacio grande ciao ciao